Vi do il benvenuto a Caterina Murigno e a Joseph Cardo. È una serata molto speciale perché siamo qui per un'occasione unica, che è quella della proiezione di un... cioè chiamarlo corto è riduttivo, in senso che è una piccola opera d'arte. Diciamo l'inizio di un film. L'inizio di un film. Avrà un sequel. Già ci dici così. Ed è appunto un'opera d'arte che racconta la storia di una famiglia e di un brand che è un'icona, Borsalino. Ecco, Caterina mi passa la spiglia della palla, grazie. Niente. Sì, Borsalino, chi non conosce Borsalino? Alla fine penso che sia nel DNA di tutti noi italiani, sia il marchio che ha esportato l'italianità nel mondo in passato e che ancora oggi continua a vestire le teste di tutti coloro che amano indossare un cappello. Quindi è il marchio iconico secondo me per il cappello, è quello che più ci rappresenta. Questo film è un tributo a questo marchio, racconta una storia della pronipote di Giuseppe Borsalino, Caterina, che in questo caso si chiama Gabriella, accompagnata da una bellissima figlia nel film, ma nipote nella realtà di Caterina, d'altra parte è una scoperta come attrice, perché lei non faceva l'attrice ma strepitosa, cioè è veramente incredibile, ma lo vedrete, non voglio svelare tante cose. E la storia racconta un... anche se può sembrare come una piccola favola romantica, no? del passato, in realtà ricorda... cioè è molto presente uno spaccato psicologico del personaggio, perché lei si trova come donna ad affrontare degli anni, che sono gli anni 70, dove la donna non aveva un ruolo così importante, quindi è anche molto contemporaneo, perché oggi si parla tanto di donne, no? Come riscoperta dell'essere donna. E lei si ritrova ad essere la persona che riporterà in luce, che troverà l'idea per riportare in luce il marchio che in quegli anni viveva un momento di crisi economica globale. Quindi non vorrei svelare tanto, anzi lascerei... No, perché dopo appunto c'è questa proiezione, dopo appunto essere stato presentato a Tokyo, persino appunto ad Alessandria, a Parigi, così, lo vedremo. E c'è Caterina appunto che fa questa donna, anche in un momento molto importante, no? Sta con questa figlia e a un certo punto, quando torna a casa, appunto, tornando a casa, le sue radici capisce che lì c'è l'ispirazione, no? Per prendere in mano una collezione e deve dividersi in qualche modo tra quella che è l'ispirazione e quella che è una figlia, no? Perché a un certo punto appunto la lascia in qualche modo all'autista, no? E la figlia gli dice tornerai presto mamma, no? Sì, non l'ho mai letta ancora su questo punto. Sì, è un bel punto in cui non lascio mia figlia, appunto, sono sicura, l'autista fa parte della famiglia. E soprattutto in quel periodo tutte le persone che lavoravano per la famiglia Borsalino facevano veramente parte della famiglia. E quindi la lascevo sicuramente in mani sicure. E un'altra cosa importante che esce da questo film è sicuramente un inno a tutti i blocchi, a tutti questi momenti un po' cupi che gli artisti hanno. Siamo in un contesto meraviglioso dell'ottantesima mostra di Venezia e quindi tutti questi artisti, questa arte, come dico con la maiuscola, quando si crea a un certo punto si possono avere dei momenti bui in cui non si riesce più. E tornando a casa vuole appunto far scoprire che forse non dobbiamo andare a cercare la creatività in giro per il mondo ma dobbiamo solamente ritornare alle nostre origini, alle nostre radici che sono sicuramente le più forti, sono quelle che emanano le energie e la creatività più giusta. E quindi questo è un po' quello che vorremmo raccontare. All'inizio la vita di questo cortometraggio era legato al momento della collezione invernale del 2024-2025, e invece è talmente potente, è talmente forte l'immagine che Joseph ha creato, questo bianco e nero, la storia, che non si poteva relegare questo cortometraggio, questo piccolo film solamente legato a una collezione. Quindi la famiglia Borsalino ha voluto renderlo per sempre, senza tempo, senza legarlo a una collezione precisa e abbiamo creato questo cortometraggio sperando appunto di poter creare un film in futuro. Senti Joseph, tu sei appunto, nasci fotografo e sei famoso per essere un fotografo e questa in qualche modo è la tua opera prima, no? Esattamente, sì, è il mio primo esordio in... mi è andata bene perché poi ho avuto una maestra del cinema, quindi... Ho avuto Carlotta. Carlotta, esatto, Carlotta bravissima perché lei secondo me ha le doti da regista, quindi sarà un regista del futuro. Ed è stata davvero... un'esperienza davvero bella perché alla fine, come potrete notare nel film, c'è tanta fotografia perché mi porto dietro quel bagaglio, però estenderla in questo modo ai dialoghi, alla rappresentazione, anche se in questa chiave è un po' da favola, no? è come se si raccontasse una favola, in realtà è come se noi viviamo una favola in questo film, è tutto leggermente artificiale, volutamente così perché voleva sottolineare uno stato emotivo, uno stato emotivo che viveva il personaggio, uno stato emotivo che attraversava il brand, quindi c'è questo racconto e dietro queste immagini, come dicevo appunto, c'è tanta fotografia perché è la caratteristica, diciamo, che mi contraddistingue in questo caso. Questo. Questo. Senti, Caterina, tu che rapporto hai con l'accessorio proprio cappello? Perché tante volte appunto, mi ricordo un artista, un tuo collega che un giorno mi disse io mi metto il cappello perché sennò mi sfuggirebbero tutti i pensieri, no? Cioè lì, che relazione hai con... Beh, Sasha, devi prendere questo mio collega subito per fare una prossima campagna con lui, perché meglio di così lo si può dire, io non sono alle sue livelli, non ce la faccio. È un accessorio che sinceramente non ho usato, soprattutto lo uso, soprattutto d'inverno. Devo dire che da quando siamo rientrate nella famiglia Borsalino è un accessorio che ho riscoperto e che sinceramente appena si indossa un Borsalino ritorna a quella classe che abbiamo un po' perso nella moda anche di oggi, ci dà un po' quell'aria un po' aristocratica, quell'eleganza che sicuramente solamente un cappello Borsalino fa. Quindi l'ho ritrovata, l'ho riscoperta e sono felice di averla riscoperta, soprattutto con tutti i modelli che hanno creato, è veramente facilissimo, sbizzarrissi con tantissimi outfit totalmente diversi l'uno dall'altro. Senti, come appunto diceva Joseph, il corto è la storia di una famiglia in qualche modo, ma è anche un po' la storia di ognuno di noi, perché se tu guardi quel bianco e nero ognuno torna al proprio di bianco e nero, al proprio ricordo, anche raccontavo prima proprio a Sasha di mio nonno che aveva solo cappelli Borsalino e quando io li ritrovai, li indossai nel 2021 ed erano stupendi come nel mio 1919, no? E quindi mi piaceva, c'è una frase molto bella nel corto che dice nessuno di noi può prescindere dalla propria storia, no? E quindi mi piaceva fare un gioco, visto che siamo appunto in ambito cinema, se voi doveste chiudere gli occhi in un bianco e nero, esattamente come quello che c'è, fare un trailer della vostra di vita. Chiudendo gli occhi, tornando bambini e tornando a quel giardino, al vostro giardino, non a quello del... Beh, è bella complicata. No, è complicata, sì. Sicuramente il giardino... Ciavaccio. È legato alla mia infanzia e quindi quando vedrete Carlotta, che interpreta a me da bambina, anche se non ho vissuto ovviamente quel periodo, però sicuramente era l'infanzia di una villa a Sant'Antioco, che è un'isola della Sardegna, dove giocavo con mio fratello. E quindi sicuramente chiudendo gli occhi mi riporta a quell'immagine. Passa, vai. Altra domanda, Lino? Sì. Devo dire un attimo, vero, questa è una cosa molto bella, emozionarsi per il passato. Chi non ha vissuto un passato così non può sentire davvero la... Io penso un attimo alla nuova generazione, è come se si fosse perso un attimino quella consapevolezza che avevamo noi quando eravamo ragazzini. Quindi descrivere quel giardino... Io ho vissuto in una città del sud, quindi non ricordo il giardino, ma ricordo queste strade piene di sole in Puglia. E sento ancora i sapori, gli odori di quelle strade, delle donne che stendevano i panni all'aperto. Ed è un'immagine meravigliosa che mi porterò sempre dentro, che secondo me fa parte del mio bagaglio culturale e mi permette di descrivere anche certe immagini. Perché è grazie a noi passato che ho conosciuto queste cose e oggi riesco a descriverle. Grazie. Faccio, per rompere il clima, Sascha, non potevi trovare il luogo migliore? Perché è veramente bellissimo, però mi sento veramente a casa come se fossimo Alessandria perché ci sono le stesse zanzare di Alessandria. Ti ringrazio, ti ringrazio Sascha, sì infatti immagino, ti ringrazio veramente di cuore perché mi sento tornata a casa. Grazie. Durante, ve lo dico, durante le riprese del film mi avevo contato 45 pizzichi di zanzare sulle mie gambe e ho dovuto prendere degli antistaminici, stavo tremando, tra un po' morivo lì per girare questo film. Sono quelli di Alessandria, ma che cari, ma guarda l'organizzazione di Sascha, incredibile. Borsarino... Ci accompagnano, volevano lasciarci solo. Anche loro stanno tornando a casa. Sì, è molto bello tutto questo. Senti, io vorrei chiedere a Moro Baglietto che è il direttore generale di Borsarino se può raccontarci un attimo, darci proprio un aneddoto di natura un pochino storica, del legame, del perché accompagnare quella storia familiare con quest'opera d'arte e in che modo Borsarino è stato legato al cinema perché c'è proprio tutta una storia che è anche una storia italiana. Se vuoi accomodarti, noi siamo felici di... Piacere. Buonasera a tutti. Beh, allora, innanzitutto devo dire che il legame del cinema con Borsarino fa parte proprio di tutta la storia della Maison perché, diciamo, c'è questo legame storico dall'inizio di Hollywood fino agli anni 70, fino ai recenti film, e quindi c'è proprio un legame molto forte tra il marchio e il mondo del cinema. E quindi questa iniziativa ci è sembrata un ottimo tributo per la storia appunto del nostro brand e poi anche perché cerchiamo sempre di mantenere questo legame tra il nostro heritage e il nostro passato, la nostra storia, la nostra manifattura e quello che è una prospettiva verso il futuro. Quindi devo dire che Joseph e Catrino hanno interpretato meravigliosamente questo ideale che noi cerchiamo di portare avanti nel quotidiano anche del nostro lavoro di tutti i giorni e che è un po' anche un modo nuovo di comunicare, di arrivare a un target abbastanza vasto come appunto il mondo del cinema permette di raggiungere. e poi c'erano degli elementi che ci sono piaciuti molto nella storia nel senso che innanzitutto tornando a casa vuol dire comunque tornare ad Alessandria per noi quindi la nostra genesi, la nostra storia dove prendere appunto tutti gli input creativi per proiettarci verso il futuro. e poi una componente femminile così piacevole, così brava è esattamente in linea con quello che stiamo facendo anche col prodotto e con tutto il brand e proprio quindi un tributo alla donna e questa riscoperta dell'heritage riportata e proiettata verso il futuro. Quindi c'erano un po' tutti gli ingredienti perfetti per collegare il corto con quello che è la Maison Borsalino. Senti Caterina, grazie. Quando sempre in un passaggio del corto si scoprono storie, no? Tipo che a un certo punto i cappelli delle donne si facevano con i ritagli, i resti dei cappelli degli uomini, no? Ecco, in che modo diventa anche non un oggetto di emancipazione però un po' sì? Beh sì, anche perché all'epoca erano soprattutto tantissimi gli uomini che uscivano, che portavano più il cappello anche se c'erano giustamente le donne però era sicuramente l'uomo che era quello che era più fuori casa per cui era soprattutto durante... questo era dopo la guerra? Era dopo la guerra per cui sicuramente appunto si prestavano diciamo più, si utilizzavano più i tessuti per fare i cappelli da uomo e quindi è un... chi è che ha deciso di mettere questo cappello nella... tu voi giustamente nella scenografia perché io sinceramente non lo sapevo mi sono ritrovata questo cappello abbastanza particolare e mi avevano spiegato questa storia quindi credo che fosse molto importante anche come lei lo racconta la figlia e questo passaggio sia estremamente importante affinché si racconti anche un'emancipazione giustamente di tutto quello che è stata l'evoluzione della donna nella società Bene, allora prima di lasciare come dire spazio alla proiezione mi piaceva, visto che siamo appunto qui e l'abbiamo fatto con tutti noi stiamo raccogliendo i film che ci hanno cambiato la vita cioè quindi ognuno di voi dovrebbe chiudere un secondo gli occhi e individuare qual è stato il film che l'ha segnato in qualche forma nel bene e nel male cioè da Rosio che ha disegnato La Bella e la Bestia a tutti quelli che sono passati ognuno appunto ha ricordato il momento in cui un film gli ha cambiato la vita cambiato la vita non lo so sicuramente è un film che è uno dei miei film preferiti il mio film preferito che ha potenza in tutto una storia femminile regista femminile ed è anche una giurata della nostra mostra con una potenza musicale di costumi della fotografia la storia straordinaria è sicuramente lezioni di piano per cui non posso dire che ha cambiato la mia vita però rimane sicuramente uno dei film per me più belli della storia è sicuramente uno dei più completi in quanto poi racconta anche una storia di donne e di emancipazione di quanto appunto questa donna volesse cambiare e uscire da questa scatola di matrimonio preconfezionato che esisteva all'epoca la regista è Jane Campion ce ne sono tanti se devo pensare a uno in particolare è soprattutto il mio passato perché poi io sono un cinefilo quindi alla fine sono curioso guardo qualsiasi cosa e cerco di trovare in qualsiasi film anche la parte che più mi appartiene quindi anche magari nel film più banale secondo me c'è qualcosa che lo può rendere speciale ma in particolare devo dire l'ultimo tango a Parigi perché amo tanto quella fotografia quel modo di essere quel modo di rappresentare un film l'ultimo tango a Parigi per me è stato uno dei film che ha segnato anche a livello di stile quindi avevi questa reference di quest'uomo che era Marlon Morando però poi ce ne sono stati tanti altri quindi se dovessi centrarne uno l'ultimo tango a Parigi bene lei vuole? Mauro ne hai uno? ma ce ne sono può essere legato anche a Borsalino visto che è stato l'unico su una locandina sarebbe troppo scontato comunque abbiamo questo legame col cinema anche appunto di Borsalino siamo stati forse la prima mesona ad avere un nome un titolo di un film legato a un brand quindi è stato sicuramente un bellissimo film ma devo dire uno dei film che mi hanno sempre entusiasmato per la completezza c'era una volta in America quindi sia per la musica per la scenografia per la storia quindi devo dire che è uno dei film che guardo spesso che rivedo sempre volentieri bene grazie molti grazie avresti dovuto dire nove settimane e mezzo tanto siamo tra amici tra amici potremmo arrivare lì va bene allora io direi che se ci giriamo e vogliamo vedere intanto il film poi ci fermiamo per un saluto finale però può partire la proiezione buona visione buona visione spegniamo le luci qui immagino grazie a tutti grazie grazie a tutti grazie a tutti